Più di 200 kg di cocaina per un potenziale guadagno di oltre 15 milioni di euro. È il carico da record sequestrato dalla Compagnia dei Carabinieri di Vimercate nell'ambito di un'operazione simultanea e congiunta tra Milano e a Gratebrianza. Tre gli arrestati, tutti di nazionalità albanese e pregiudicati. Uno di loro è stato fermato a Milano, era alla guida di un'auto con targa inglese con all'interno oltre 60 kg di cocaina. In contemporanea l'intervento è stato realizzato da Gratebrianza. I due complici erano in attesa nel parcheggio del cimitero, vicino a tre macchine in sosta e con una quarta a poca distanza. Nascosti in appositi vani protetti da pannelli azionati elettricamente, c'erano gli altri 140 kg di cocaina, perquisiti anche due appartamenti in locazione e risultati a vario titolo nella disponibilità degli arrestati in entrambe le città. Qui i carabinieri hanno trovato un apparecchio contabanconote, due macchine per il confezionamento sottovuoto e una valigetta contenente circa 3.000 banconote contraffatte, nonché l'equivalente di quasi 80.000 euro in contanti di valute diverse. Per aprire alcuni box è stato necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco. Droga, denaro e vetture sono stati sottoposti a sequestro. I tre uomini sono stati condotti presso le case circondariali più vicine.